Evodved con la boss battle con lo scimione Adesso andremo a organizzarci, andremo a sistemare quello che c'è di sistemare Ci uniamo ai nostri compagni che in te dovrebbero essere già qua a proposito Perfetto, stavamo dicendo siamo praticamente pronti, bisogna soltanto andare e fare 10 in totale 20 rex di cui 19 rextech e 1 giudiranno Poi vedremo anche insieme le statistiche che si necessitano I boss in alpha sono più o meno quei 260.000 di vita e 1200 di attacco Ecco insomma, non chissà quanto però per farla, per passarla, easy, easy, base, base, queste sono le statistiche Ah io sono all'arca, lascio giù i rex e appena arriva violence andiamo Tu 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 Tutti sopra? Tutti? Ottimo Guarda di no quando vuoi In piedi? Dai vai Vai io l'arte sei? Ok Adesso faccio capire Ho axelone? Sì ho axelone Occhio non farli cadere giù eh Cazzo Aspettate 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 che sennò cadrò giù Fermi tutti, fermi tutti Lo faccio avvicinare? Ok Ok E' sopra sul ponte lui E' dove sta? E' ma qua non cadrò giù poi Ma che arriva E' perchè mi sa che qua Eccolo Eccolo si Eccolo che arriva Arriva Facciolo venire qua Facciolo venire proprio qua Facciolo venire proprio qua No ci lancio le cose Insane Ok Ora 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 Fami 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 Ci sono davanti Ci sono davanti Ci sono davanti Ci sono davanti Cosa fa male E' morto davanti KISS BERLI No è alfa è alfa Dai 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 che va giù veloce Quanta mità hanno quelli davanti? Vabbè solo 2.000 Faceva di più il ragno Faceva 4.000 il ragno Dove? Ah si, ah si, ah si, ah si, ah si, ah si Vai Vai Attacca Attacca Fami L'importante è che non muoiono i miei rex Lo stiamo spingendo Sì Lo stiamo spingendo troppo lontano Vabbè Vabbè io intanto vi guardo E' così easy Va 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 Funzionati anche la lontana Vabbè Vabbè mi ha lanciato Aia Aia Oh ho sbloccato anche Un muro grande Come mai? E' facile così no? Non l'ho capito? No